Prima si è finto maresciallo dei carabinieri e dopo un avvocato, così è riuscito a raggirare la vittima facendogli credere che il nipote fosse stato di arresto e facendosi consegnare anche oggetti di valore. Ancora una truffa ai danni di un anziano con un modus operandi ormai collaudato. È successo a Lucignano dove un uomo, capito il raggiro, ha subito sporto denuncia ai carabinieri per la truffa subita. Immediate le indagini dei militari che, grazie all'esame dei flussi bancari, testimonianza e identificazione del mezzo per mettere a segno il colpo, sono riusciti ad individuare e denunciare un ventenne con precedenti specifici per l'ipotesi di reato, di truffa e furto aggravato in concorso. I carabinieri continuano a raccomandare la massima attenzione a tutti e prima di decidere se aprire o meno la propria porta di casa a chi si presenta come rappresentante delle forze dell'ordine, i militari fanno sapere che è opportuno controllare se strada ci sia parcheggiata all'auto di servizio, capire bene il motivo della visita, controllare con cura il tesserino di riconoscimento per soggetti non in divisa, osservare per quanto possibile i particolari dell'uniforme e degli accessori e comunque, anche al minimo dubbio, contattare il 112.